Pazzo! Pazzi! Le vostre pallottole non possono nulla contro i miei straordinari superpoteri! Dovresti cambiare Deodorante. Batman! Domanda, credi che gli eroi siano stati scelti o che sia solo fortuna? Blue, basta, non è il momento adesso. E dai, ho fatto un volo di 1.500 miglia per chiedertelo e tu! Va bene, scusa. 1.442 Scusa, ma adesso sono impegnato! Con il Dottor Polaris, ma dai, puoi sconfiggere questo tipo in due secondi, ti stai solo allenando! Non so se capisci, ma è importante e tu pensi che io sia stato scelto come Blue Beetle perché avevo le caratteristiche giuste? Ci sono stati molti Blue Beetle e tu non hai niente a che fare con quello che conoscevo. Ne hai conosciuto uno. E tu non me l'hai detto per tutto questo tempo, eh? Dai, perché? Adesso non è il momento, Jamie. Raccontami tutto! Devi lasciarmi in pace. Ciao, allora! E grazie mille, Cavaliere Oscuro! Una ricerca su internet. Sono sicuro che l'ultimo Blue Beetle non aveva un sito. Oh, guarda un po'. Eroi di Yub City. Chissà che tempo c'è in questo periodo dell'anno. Eccoci qui, le corde Enterprises. Ok, mia bella armatura, ma se davvero qui dentro venisse celato un segreto, quale sarebbe il modo più semplice per... Oh, no, 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 no! Oh, no, no! Che schifo. Tu, t'adori in poi guido io, ok? Wow! Che spettacolo! Sembra di essere a casa. E a quanto pare non ci viene nessuno da un sacco di tempo. Hola! Bella navicella! Diario di Porto. Le coordinate indicano l'ultimo posto in cui è andato l'ultimo Beetle. Sarà ancora qui. E se è in difficoltà o fosse ferito? No, non sono stupito. Potrebbe essere la ragione per cui sono stato scelto. Forse Beetle è in pericolo e io devo salvarlo. Ah, sì? Non mi interessa la tua opinione.